Grazie per la linea. Un po' arretrato Zlatanfer numero 8. Inizia a prendere velocità la macchina e si lotta per il comando all'attacco della piegata, poi Zulux, very nice, tenta di andare al comando ma gli rientra ZZ Blues e anche Zambezia. Scende però l'allievo di Buonpane Junior e completa il lancio in 13.6. Punta in avanti Zambesia. Siamo al completamento della piegata, a largo è Genobia Gall. Si completa il quarto iniziale nell'ordine del 29.2. Davanti alle tribune Zambesia prosegue nel suo sforzo, appariglia il leader. E davanti alle tribune la Varenne, ora è a largo del leader, che non manda via. 43.4 da 1.12.3. Terza ruota costante per Genobia Gall. Il 6 a tabellone Zulux, very nice, perché si è eliminato all'improvviso. Si va al completamento del mezzo miglio iniziale in 59.8 e ZZ sfrutta i birilli e va al comando. Penultimo rettilineo, si affaccia ancora Genobia Gall che sta facendo un corsone. La Zambesia appariglia il leader che allunga. 14.9 il chilometro e Donadio non ammette interferenza. Pochi argomenti per Zambesia. Di dentro è buona Zinastar con il buon Sorrentino. I cavalli affrontano la curva finale. 14.8 fanno 1.29.3 di miglio. Si affaccia Genastar con Sorrentino. Viene via anche Zaref con il dottorino. Retta d'arrivo, tenta di ripartire ZZ. Ma insiste a largo Genastar. Ma interviene il dottorino. Il dottorino Zaref come, quando vuole. Si afferma su ZZ Blues che difende il secondo posto. Terzo e numero 9 di Zipac. Due minuti e un po' di spiccio. In 1.15.1. Corre poco, ma fa vedere classe e qualità. Veramente questo dottor Paolo Corrado. Ma deve ringraziare il team Panico Finetti. O Finetti Panico, il team dei chiattoni animati. Il resto lo fa lui e i cavalli. Numero 11. Zaref 6.27 in chiusura. Gli è venuta male a Zambezia non andando al comando. Non è la sua corsa. Bene bene ZZ Blues. Non male questo Zipac che era molto giocato. Soprattutto per i piazzati. È tutto per il momento. Valerio e Rolando. A voi la linea. Grazie. 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 Grazie.